Mamma, questo è per quello che hai fatto a me e alla mia fam... Oh, oh, me ne ho scherzo, eh? Dai che non ti ho fatto niente, dai. Oh, oh, ne ho appunto soccorso, dai, ne ho appunto soccorso, dai, damme la mano, dai, damme la mano, dai, forza, dai, ne ho appunto soccorso, dai, dai, che ne ho niente, ne ho niente, dai, dai, aiutami, dai, forza fa tutta la sorveglia, ci sono le scarpe, vabbè, fammi le scarpe così, dai, dai, dai. Dai, raga, siamo arrivati, grazie ragazzi, piano, 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 stiamo al sicuro adesso. Ma che è un incidente? No, cioè sì, sì. No, è purtroppo dentro casa. Ma se che c'è vattinata dentro casa? Vabbè, dai, andiamo, va. Dai, dai, che stiamo al pronto soccorso, dai, tranquillo, tranquillo, che ne è niente. È lei il signor De Bellis? Sì, perché? Perché c'è il dottore, io dovrebbe dire una cosa. Che mi deve dire? Ah, non lo so che io deve dire, visto che ha chiamato qualcosa, io dovrei dire. Dottore, ma che c'è, qualche problema? Ha avuto una bella botta. In questo caso bisogna fare una bella altra per vedere se c'è un trama cranico, sa? Lei quindi è stato l'unico a prestare soccorso al signor Rinalduzzi? Certo, ovvio. E dove si trovava quando un ragazzo qui è scivolato battendo il viso? Come stavo? Come stavo? Stavo in a cucinare. E te? Stavo in a cucinare. Nella doccia. Pure lei? Cazzo! Eh? Eh, no, mi fa male, mi fa... Sì, stavamo a fare la doccia. Ah, insomma, voi due stavate insieme nella cabina della doccia? Sì. Stavamo a fare la doccia insieme? Guardi, scusi, no, è che a casa mia lo scaltabagno è piccolo e l'acqua calda dura poco. Allora, guarda come è lui, abbiamo detto vabbè. Infatti. Poi dopo, quando sono uscito dalla doccia per primo, ho messo un piede in fallo e sono andato lungo. Anzi, fortuna non c'è stava lui. Infatti. Vabbè. Fammi capire. Ma che sono gay questi? Ammazza. E tieni i vedi? Senta, ma comunque non è che c'è pericolo imminente, no? Si può stare tranquilli, dottore. In ogni caso una notte in osservazione ci deve stare, eh? Certo. No, 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 dottore, io devo andare a casa. Ma devi firmare, eh? Sì, fermo, fermo. No, va a firmare, fanno a casa, mandiamo a casa. Non deve stare a riposo e ovviamente sorvegliato. Tanto voi state insieme, no? Stiamo insieme, sì. Stiamo insieme, dai, su. No, forza, lascia. Andiamo a firmare.